Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Mai titolo di vlog fu più azzeccato come in questo caso. Ma facciamo un piccolo passo indietro e ricapitoliamo un po' la situazione e la faccenda per chi si fosse perso qualche passaggio. Allora, punto primo, la nostra Chiara d'Alessandro organizza un viaggio non programmato così a sorpresa per lei e per Davide. Il tutto organizzato tramite internet, tutto prenotato, tutto bellissimo, una settimana da passare in una località misteriosa, almeno per il momento. Quindi si va di video, di live, di preparazione valigie, di esposizione di sentimenti, di aspettative, di emozioni, eccetera, eccetera. E finalmente si parte. Il viaggio è breve e finalmente si giunge alla meta di destinazione che per il momento comunque lei tiene ancora un po' misteriosa. Non rivela ancora il posto dove si sono recati, che comunque ovviamente è sempre un posto di mare. Appena arrivano in albergo, siccome è appena una settimana quella, il periodo di vacanza, loro già pronti, costumati, concedetemi il termine, si recano in piscina. Allora parte il primo vlog dove si dicono felici, il tutto è bello, bellissimo, siamo in piscina, ci divertiamo. Quando a un certo punto si ferma il vlog e riparte da un altro punto, seduti a un tavolino di un bar. Le espressioni non sono più quelle felici del vlog precedente e quindi fa tutto, fa intuire che qualcosa sia cambiato, ma soprattutto in negativo. Il racconto in merito lo inizia Davide, che ci tengo a precisare se gli vedete un qualcosa di cambiato. Sì, ha un taglio di capelli un po' improponibile, scusa Davide, e delle sopracciglia ancora peggio. Però dai, non facciamoci guastare nell'umore, né questo periodo di vacanza e guardiamo oltre. Allora Davide con un piglio un po' mesto inizia a raccontare un po' l'accaduto, partendo un po' dalle, non lo so, dalle guerre puniche, quando a un certo punto Chiara prende padronanza della scena e inizia a raccontare un po' lei, riassumendo ovviamente l'accaduto. E sembra che mentre erano in piscina, un gruppo di bambini, accompagnati comunque dai genitori che erano lì presenti, hanno iniziato a giocare con una palla, un pallone, e a un certo punto non si è capito bene la dinamica, sto pallone è finito per ben due volte sulla testa di Chiara D'Alessandro, la quale è andata a reclamare con la direttrice, la proprietaria dell'albergo, barra hotel, tre stelle, come loro ci tengono più volte a precisare, la quale sembra che non abbia accolto di buon grado il reclamo di Chiara e anzi come risposta le abbia detto che era una demente. Ora a me sembra un po' strana sta cosa qui, mi sembra un po' surreale come situazione, allorché loro, indignati da questa risposta poco educata della proprietaria dell'albergo, si sono recati nella loro camera, hanno preso le loro cose, che comunque non c'era manco stato il tempo di andarle poi a sistemare, a riordinare nei cassetti, dato perché la camera l'hanno occupata per appena mezz'ora, il più del tempo l'hanno passato in piscina, quindi hanno ripreso le loro cose pronti per andare via. Quando ecco che la proprietaria dell'albergo sembra che non gli volessero dare indietro i loro documenti, e qui praticamente è uscita fuori la parte di Chiara, di milanese pura, quella che fa valere i suoi diritti, nel senso amminacciato di chiamare i carabinieri. Ora sembra che a questo punto la proprietaria si sia convinta, anche molto suggestionata dal marito, che sembra fosse una persona un po' più a modo, quindi un po' la minaccia, un po' tutto il resto, ha mollato i documenti, la proprietaria dell'albergo, e ha lasciato liberi, in questo caso è il verbo più adatto, i due villeggianti che si sono recati, e per fortuna hanno trovato un'altra struttura, velocemente si sono collocati in un altro albergo, e pare che appena arrivati hanno avuto anche una sorta di benvenuto culinario, consistente in una ciotola di patatine, e una di salatini, un qualcosa così, e un'acqua tonica e un tè. La felicità di Chiara era alle stelle. Poi quindi c'è stata una visita veloce del nuovo albergo, con tanto di veduta all'esterno, si vedeva in lontananza la spiaggia, cioè in lontananza manco tanto, comunque penso un cento metri dall'albergo c'era la spiaggia, ovviamente un po' desolata, nel senso che non c'era nessuno, c'erano forse due persone, una in mare e un'altra sulla spiaggia, forse per rispettare bene le misure di distanza che ci hanno imposto dal governo. Ecco, vabbè detta questa, potrei anche chiudere, però vabbè, continuiamo. Allora, sembra che per il momento non abbiano intenzione di andare a fare il bagno nel mare, ma solamente in piscina, piscina presente ovviamente nell'albergo. Per quanto riguarda l'albergo, poi c'è una nota dolente, ecco, non so come dirvelo, per quanto riguarda i pasti, non è più come l'anno scorso, del tipo che c'era un banco in lungo, dove potete prendere quello che volevi e magari rattoppare anche per lo spuntino del pranzo, se andavi al mare, eccetera, eccetera. Ecco, come ampiamente hanno fatto l'anno scorso, Chiara e Davide, portandosi addirittura i sacchetti già da casa per quest'operazione. Ora, quest'anno, vuoi un po' l'emergenza virus, un po' magari l'albergo, perché si è fatta due conti in tasca, hanno tutto porzionato e soprattutto quello che i clienti richiedono va richiesto all'operatore di banco e praticamente lui dà le cose, quindi non è che poi sta a chiedere tipo cinque panini, dieci panini, perché quello dice ma che stai a fare? E quindi nota dolente, mi sa che per pranzo, per colazione, per cena dovranno arrangiarsi in altro modo, quindi credo che le spese saranno più cospicue. Però dai, siamo in vacanza e non bisogna badare al portafoglio, altrimenti uno se ne stava tranquillamente a casa sua e amen. Bene, quindi questa era un po' la cronaca del primo giorno di vacanza, direi che ce ne sono successe abbastanza, ma siamo appena al primo giorno, credo che le sorprese migliori siano ancora da arrivare, quindi aspettiamo fiduciosi e comunque Davide, Chiara, divertitevi ragazzi, tanto a casa vi aspetta la socerina e le mille faccende domestiche, quindi ragazzi approfittate di questa settimana, rilassatevi, divertitevi, tanto noi saremo con voi a seguire i vostri vlog che sono comunque divertenti di compagnia e speriamo che non ci siano altri intoppi, perlomeno quello, anche se un po' sì, deve essere cattivella, un po' sì, perché comunque è divertente, dai. Beh, ragazzi, questo era il mini vlog di oggi relativo al primo giorno di vacanze di Chiara e ci riaggiorniamo nei giorni prossimi. Un bacio a tutti da Gossip!